tadaaa kagudzu versus shigaragi allora facciamo così spieghiamo gli esempi poteri perché magari c'è effettivamente qualcuno vai 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 allora da una parte abbiamo kagudzu la kagudzu ha il potere di una tecnica proibita del villaggio della terra che praticamente rende il suo corpo ma quello di destra è dopo stars and stripes sì allora non c'è scontro e alla prendente il corpo fatto di questi fili e di conseguenza si può rigenerare fondamentalmente in continuazione non ha un cuore ma cinque e di conseguenza tu per ucciderlo devi distruggere tutte cinque i cuori può rubare i cuori agli altri quindi rigenerare i cuori che ha perso e ovviamente deve trovare cuori appena uccisi diciamo e oppure ancora vivi anzi e non so bene questa cosa no no ecco lorenzo quello della fine ha detto quindi quello super oppi che batte stars and stripes può usare tutte tutte le tutti i tipi di chakra anche perché può usare anche le tecniche dei tizi che di cui assurbe il cuore quello c'ha tutti i poteri possibili immaginabili non tutti perché molti sono stati distrutti ma c'ha lul for one quell'altro sì quell'altro semplicemente ha tantissimi poteri nascosti al suo interno se ti tocca sei morto cinque cuori cinque cuori ci fai cazzi se quello ti tocca tu mi dai lo tocca ripeto abbiamo visto un sacco di volte che questo potere è sbroccato a volte a volte tocca in realtà in realtà in realtà c'è in realtà la tua non è non è così sbroccato perché lui si può dividere si divide sicuro si può dividere quindi cacuzzo c'ha molte più possibilità di sfuggire e non farsi toccare cioè la la forza dei ninja a questo livello è che fondamentalmente toccarli è un problema ma non lo deve toccare non c'ha bisogno che cazzo tocca affatto tocca la terra sì e c'ha pure i cuori che saltano e beh ha capito poi devi rimanere in aria tutto il tempo mica vola eh dove va non vola lui non vola e non vola a shikaraki vuoi dire e nemmeno a shikaraki tocca al terreno non hai capito tocca al terreno quello parte da su e lo bombarda da sopra non lo ammazza l'hai deciso tu vabbè c'ha l'occhio buona dentro cacuzzo penso che ce l'abbia una tecnica per rimanere in posizione sopra le vale in qualche modo c'è una qualche cosa che che si costruisce sotto i piedi ma sì no shikaraki tocca al terreno max quello secolo del finale batte stars and stripes se ti muovi sei morto però aspetta ma tu come ti chiami perché non lo so ma però kakuzu non è questo problema non se buoni i problemi sui nomi della gente in generale direi che è più forte shikaraki comunque allora io vi dico una cosa in naruto il massimo potenziale si dice che si raggiunge con nappa ok ora kakuzu quanto sarà radish boh ma perché aspetta nappa c'ha 4 mila però tu consideri kaguya cioè lui dice kaguya c'ha 4 mila kaguya è quattro volte più debole beh forse sì è quattro volte più debole cioè stai a mille stai leggermente sotto radish stai sopra goku e piccolo all'inizio diciamo che il nomo non sopporta shikaraki dai shikaraki senza nomo no vabbè che cazzo c'è dal nomo mo in teoria adesso no scusa aspetta no cioè ah no l'ha perso star star step gli ha distrutto quello del volo dai ha distrutto il nomo lo so che gli ha distrutto un po' di roba è per il fatto che non lo sai quali non ha e quali ha quindi è un po' difficile no sì però oggettivamente kaguya rimane in vita contro il primo kage ricordiamo ma quello è morto più forte del primo kage non lo so eh insomma cioè a che livello metteresti eh all might cioè all might a che livello metteresti contro radish vince all might bah non ne sono così convinto io di questa cosa però però allora secondo me contro shikaraki il livello di potenza controllo giusto perché se il mio potere è che ti eh disgrego cioè tu puoi avere potere dieci o diecimila cioè se ti tocco ti disgrego ma sta anche all'incasso però all'incasso quanto può incassare lui cioè lì si vede che resiste attacchi a missili cioè i missili a per di arradici non gli fanno un cazzo però però non so se a kaguzu non c'è secondo me se arriva un missile in testa a kaguzu lo ammazzi kaguzu però c'ha cinque cuori ma che gli hai disgregato un missile c'è un missile cazzo non lo so cioè l'unica cosa è che ti dividi prima cioè devi essere in zone diverse però non puoi paragonare kaguya ma a nappa perché no l'ho paragonato io è proprio l'autore kishimoto che ha detto che kishimoto ha detto che nessun personaggio di naruto è più forte di nappa non vuol dire che il personaggio di naruto più forte è forte quanto nappa se serve un cazzo cinque cuori sono d'accordo con te contro lui non servono un cazzo cinque cuori quindi boh cioè nel senso però veramente c'è kaguya effettivamente è un è un personaggio di dragon ball kaguya è scema se quello è la forma finale è troppo più forte ma la chat vince kaguzu per me vince shikari ma questo non mi siete piaciuti per niente io guarda ti direi per me secondo me è molto equilibrato come sconto dura poco però è molto equilibrato dato che kaguzu può volare tendenzialmente io voto kaguzu e anche per dar fastidio a maggio ma tanto hai perso uguale perché meno del 60 per cento non ci lo sapevo benissimo ci avevi pensato vince 3 a 2 shikari è una debacle però ci sta ci sta è una debacle adesso però qualcuno per aiutarti lì è una debacle avanti prossimo dai ti voto uno scarso dai lì un'amica